Parte dei rifiuti tossici di Piano d'Orta nel comune di Bolognano saranno rimossi. La regione ha stanziato circa 112 mila euro per la bonifica permanente della zona, così da liberarsi dei rifiuti speciali ereditati dall'industria chimica. Noi in questo caso specifico ci troviamo di fronte ad un'area pubblica, che poi non è in realtà una strada adiacente a 15-16 nuclei familiari abitativi, chiamata Via Nelli, dove questa strada è interrotta da questo cumulo di rifiuti. Ci siamo come amministrazione immediatamente attivati con i buoni uffici, con la regione, per arrivare al punto che a distanza di tempo siamo riusciti ad ottenere questo piccolo finanziamento che per noi è una risorsa, essendo un comune che fa fatica come i piccoli comuni, siamo proprio quasi con le problematiche economiche per poter sobbarcarci questi oneri per la bonifica. Una volta giudicata la gara per la bonifica ci saranno 60 giorni di tempo per portare a termine i lavori. Nel frattempo Arta e amministrazione stanno vagliando la zona per capire la portata dell'inquinamento nelle zone che perimetrano ma non rientrano nel sito di interesse nazionale. Oramai da 20 anni è oltraggiato dal punto di vista ambientale, di salute, nei confronti dei cittadini che io devo rappresentare in tutte le forme, sia politiche, amministrative e sovraccomunali. Sarà cura di questa amministrazione far sì che questi fonti, una volta sottoscritto la famosa convenzione, avranno immediatamente in urgenza spesi, fatto una gara d'appalto per poter arrivare a rimuoverli, portarli in discarica e nello stesso momento caratterizzare il sottosuolo da dove stavano depositati già dal 2014 questi rifiuti per riuscire a capire se abbiamo un ulteriore inquinamento. E ora dopo l'ultima sentenza del Consiglio di Stato contro i rallentamenti causati dal Ministero dell'Ambiente si dovrebbe procedere anche alla bonifica del SIN di Bussi, la più grande discarica d'Europa. I lavori dovrebbero essere effettuati dalla belga Dekdeme e risarciti da Edison in base al principio di chi inquina paga, questo sempre se la Cassazione dovesse confermare le responsabilità del colosso energetico. Finalmente noi abbiamo detto evviva perché evidentemente hanno preso un grandissimo abbaglio, specialmente i colleghi dei Cinque Stelle e del Partito Democratico che invece erano per procrastinare l'intervento, per dare manforte a un'attività del governo sbagliata, ossia quella di non dare seguito a una gara d'appalto regolarmente fatta e che il Consiglio di Stato ha confermato che quella gara deve vedere l'applicazione immediatamente. sono milioni di euro stanziate dal loro governo Berlusconi che finalmente vedranno la luce e si riderà rispetto e decoro a tutto il territorio di Bussi.